Questo è il medaglione denominato IP-Protect24. Questo è un medaglione che dentro li sono delle proprietà, come vi posso dire, si crea una nuvola di biossido di cloro. Questo biossido di cloro l'hanno fatto questa scoperta, che l'hanno utilizzata a Catrina e hanno ricreato praticamente lo stesso biossido di cloro per pulire le stanze di Catrina qua dentro. Ora io devo cambiare il coso qua, perché questo bisogna cambiarlo ogni 60 giorni. Praticamente ecco qua, questo qua ora è scaduto, questo ora è scaduto. Ora prendo la confezione sigillata, ok? Questa è la confezione sigillata della IP-Protect. Questa costa 30 euro. Tutto quanto costa 50. Una volta spendi 50, poi dopo sempre 30 euro. E questo è veramente uno buono. Questo devi creare una nuvola intorno a te e impedisce qualsiasi virus a entrare. Penso che sia un po' meglio dalla mascherina. E questo qua è tutto di voi detto, vedi? Eccolo qua. Vedi? Viene venduto con questo cosa qua. Ecco qua. E qui sono i dati scientifici. Vedi? La colonna. Ma vedete? E' un bel prodottino. E' un bel prodotto. Ecco qua. La Burieders Show for the Results. Come potete notare, vedi coronavirus, è il terzo adenovirus. Vedi? Questo lo utilizzo nell'Oriente da parecchio tempo questo prodotto. Questo si sono inventato allora. Eccolo nella... che è la Sars... che era prima della Sars Cobb 2. Immaginate. E ora mettiamo l'imborucro. Allora da quando prende aria questo c'ha 60 giorni di tempo. Ecco qua. E io mo' per tutto fino a Natale quant'è sto a posto. Si iniezza il dispositivo. Si chiude. Ho fatto clip. Adesso io sono protetto con una bella nuvola che mi crea intorno. i virus non mentono. Ripeto, meglio dalla mascherina. Ok? Hai i protex. Vi faccio vedere tutte le cose, tutte le emozioni scientifiche. Come si presenta il modello. Gli esami. E poi adesso, ecco qua, vedi? Questi sono i... sono i... green zone, vedi? E tutti i batteri e quant'altro. E questi sono quelli che sono inventato. Ecco qua. E questi signori, vedi? Americani, giapponesi, ecco qua. E' eduardo Kabatog. Questo è uno di quelli che ha fondato appunto l'Im Global. Che fa parte appunto l'Im World. Che è un prodotto dell'Im World, questo. Ecco qua. Ora io mi sento protetto. Perché io penso che questi qui, dopo anni e anni di studio, poi questo non so quanto a storia, perché se no, mi fanno più a tuo orecchio. E giù niente. E li utilizzano. Guardate tutti i tipi, 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 i tipi. E' qua la sola che hanno fatto vede ultimamente, eh. Questa è un'altra cosa. Non c'entra niente con qua la sola che hanno fatto vede ultimamente. Questo. Hai però i protex 24. Eh, guardate qua. Vedi i grafici? Vedete i grafici? Vedi? Guarda. Non so se ho inventato. Non so una roba inventata. Io già ce l'ho da due anni. A parte utilizzo pure i loro trattamenti preventivi. Perché loro utilizzano la prevenzione. Noi ne parliamo da anni e anni. Loro invece lo utilizzano. Perché siccome loro devono pagare tutti i medici, non è che c'è sta l'SSN che paga per noi. Perciò loro si guardano bene ad ammanarsi. Se fanno una cura preventiva. La cura preventiva cosa lo fanno? Lo fanno con appunto degli integratori alimentari e con altre cose. Io come integratore alimentare, Dulcis in fondo, utilizzo le C24. Sempre un prodotto della Inglob. Questo qua. la combinazione di questo col 24-7 e anche con il dispositivo che si mette nel telefono per le onde elettromagnetiche appunto lo aggiungiamo come in prevenzione. Questo contiene una cifra Guardate, guardate le cose che contiene questo sull'Eccola. Guarda. Guardate le cose che ci fa. Queste sono super vitamine. Sono super vitamine. Sono super vitamine. e tu quando sta bene e il tuo corpo sta bene, le due proprietà immunologiche entri in funzione molto bene. Ok? Questi sono i dispositivi per combattere eventuali virus influenzali e quant'altro. Ecco qua. bisons.